Una benedizione per l'intero popolo colombiano che sta cercando di uscire da mezzo secolo di conflitto interno, che ha seminato sofferenze e inimicizie procurando tante ferite difficili da rimarginare. Si è concluso il viaggio apostolico di Papa Francesco in Colombia tra il 6 e l'11 settembre e il pontefice lo ricorda con gratitudine nel corso della Catechesi dell'Udienza Generale di mercoledì. Del ventesimo pellegrinaggio sul tema Facciamo il primo passo rammenta l'intensa giornata trascorsa a Bocotà, così come il vibrante appuntamento di Villa Vicenzo, che più di altre città porta le cicatrici della violenza armata. Venerdì 8 settembre, nel terreno Catama, Papa Bergoglio celebra la messa per la beatificazione di Monsignor Jesus Emilio Jaramillo Monsalve e del sacerdote Pedro Maria Ramirez Ramos, vittime della violenza in epoche e contesti diversi, e ricorda che ogni sforzo di pace senza un impegno sincero di riconciliazione sarà sempre un fallimento. La riconciliazione non è una parola che dobbiamo considerare astratta. Se fosse così porterebbe solo sterilità, porterebbe maggiore distanza. Riconciliarsi è aprire una porta a tutte e ciascuna delle persone che hanno vissuto la drammatica realtà del conflitto. Colombia deve anche ritrovare la sua identità, quella che è stata spezzata dalla violenza e dalla morte, anche nell'incontro con il Vangelo, perché il Vangelo ha fatto parte del suo itinerario di vita. La storia di Colombia è tessuta anche del Vangelo di Cristo. I colombiani devono sviluppare la cultura dell'incontro. Normalmente noi ci odiamo per separato. Adesso il Papa ci convoca agli adulti, ma soprattutto ai giovani. Fate voi la cultura dell'incontro, perché senza incontrarci non sarà possibile fare un sogno insieme e cominciare a dare il secondo, il terzo e il quarto passo. Noi crediamo che la riconciliazione sia un compito quotidiano. Ciascun colombiano è consapevole delle sue capacità, ma anche dei suoi limiti e riconosce la debolezza dell'altro. Per accettarlo com'è. Accogliere la diversità permette di completarsi a vicenda, senza che nessuno si imponga sull'altro in virtù del potere, o con la forza fisica o con qualunque altro tipo di imposizione egoistica. Dinanzi alle popolazioni indigene presenti e sollecitato dalle notizie di cronaca sulla furia dell'uragano Irma, Papa Francesco rivolge un pensiero anche alla cura del creato. La violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato, rimarca, si manifesta anche nei sintomi di malattia che riscontriamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi. Comprendiamo quanto il Papa ci ha insegnato nella Laudato Si, ovvero che l'ambiente è anche fratello per noi umani. È la nostra casa comune e dobbiamo imparare a conviverci perché ci offre il rifugio, ci permette di vivere la nostra esistenza, ci consente lo sviluppo umano. Ferite che sono ben visibili anche nel crocifisso di Bokhaya, che il 2 maggio 2002 assistette al massacro di decine di persone rifugiate nella sua chiesa, esposto durante l'incontro per la riconciliazione nazionale. Nelle testimonianze commoventi che si susseguono prendono forma i dolori del cuore di un popolo, difficili da rimarginare, ma anche la salda certezza che l'odio non ha l'ultima parola. È ora di sanare ferite, di gettare ponti, di limare differenze. È l'ora di spegnere gli odi, rinunciare alle vendette e aprirsi alla convivenza basata sulla giustizia, sulla verità e sulla creazione di un'autentica cultura dell'incontro fraterno. Non c'è dubbio che il conflitto armato in Colombia ha provocato molto dolore e molte sofferenze, ha sconvolto molte vite, portando molta distruzione. Credo che sia umano che nel cuore di diversi colombiani vi sia odio e rancore provocati dalla frustrazione e dai danni causati dall'uso della violenza. Però noi colombiani dobbiamo comprendere che non possiamo continuare a colpirci in eterno, ad ucciderci, che è meglio perdonare per poter costruire un futuro migliore per tutti e che se arriviamo al perdono il passato certamente non cambia, ma possiamo permetterci di guardare avanti con altri occhi e di individuare altre possibilità per cambiare il paese. Il passato si ci permette di guardare avanti con altri occhi e vedere altre possibilità di un paese differente. Sarà un lungo, un lungo processo, Colombia ancora deve farlo, passano troppi anni prima di aver riuscito a quella grande cumbre del Apache, però prima del Apache la reconciliazione, e prima della reconciliazione e il perdono, e prima del perdono all'incontro e al dialogo. Il tema La vita cristiana come discepolato fa da sfondo alla giornata di sabato 9 settembre a Medellin inaugurata all'aeroporto Enrique Olaia Herrera con la Santa Messa. Ai fedeli presenti il pontefice indica tre atteggiamenti che dovrebbero plasmare la vita dei discepoli, andare all'essenziale, rinnovarsi e coinvolgersi. La Chiesa non è una dogana, richiede porte aperte, perché il cuore del suo Dio è non solo aperto, ma trafitto dall'amore che si è fatto dolore. Non possiamo essere cristiani che alzano continuamente il cartello proibito il passaggio. Né considerare che questo spazio è mia proprietà, impossessandomi di qualcosa che non è assolutamente mio. Colombia è un paese con profonde radici cristiane e cristiane cattoliche. In questo momento ci sono molte offerte di ordine religioso, non sempre in linea con quello che è il messaggio di Cristo. ci sono molte proposte di teologia della prosperità che spesso dimenticano che anche la croce, la sofferenza, sono occasioni per avvicinarsi a Cristo vivo e risuscitato. In questo momento va fatta una profonda evangelizzazione, a partire dai valori, dalle radici che abbiamo ricevuto da quanti sono venuti a portarci la fede. Per essere discepoli di Cristo oggi sono necessari tre elementi fondamentali, prima di tutto l'amore, la speranza e l'unità. In un momento in cui nel mondo si verificano cambiamenti e vi sono realtà sociali che coinvolgono profondamente la persona e la società, è urgente evangelizzare. Dobbiamo anche affrontare la sfida dell'impegno per la riconciliazione. Purtroppo la situazione di violenza che abbiamo vissuto e i conflitti cui abbiamo assistito hanno portato a divisioni interne, a spaccature nella società. È necessario ricostruire tutto il tessuto sociale. Abbiamo di fronte la sfida di ricostruire l'orientamento morale del paese. C'è corruzione, alcune realtà vanno rimesse a fuoco e pertanto la Chiesa deve essere una luce, una lampada che aiuti a trovare la strada. Quando i cristiani si impegnano fino in fondo nel cammino di sequela di Gesù Cristo, diventano veramente sale, luce e lievito nel mondo. Uno di questi frutti sono gli hogares, le case dove i bambini e i ragazzi feriti dalla vita possono trovare una nuova famiglia. Veder soffrire i bambini fa male all'anima perché i bambini sono i prediletti di Gesù. Non possiamo accettare che siano maltrattati, che siano privati del diritto di vivere la loro infanzia con serenità e gioia, che si neghi loro un futuro di speranza. La cosa più importante è trasmettere tanta fiducia in loro stessi, fargli capire che loro sono preziosissimi e che valgono tanto. Questo già sarebbe tanto per far crescere persone che possono a loro volta comunque dare positività, trasmettere positività ad altre persone, piano piano, piano piano, così si generano poi i valori in una società che può diventare una società positiva. Il mondo ha bisogno di testimoni coerenti e nell'incontro con i sacerdoti consacrati e le consacrate e i seminaristi nel centro alla Macarena, Papa Francesco chiede di essere veri messaggeri della fede. Nel lungo discorso, arricchito da varie parti a braccio, trovano posto anche i giovani e la loro natura inquieta, inquietudine che molte volte è stata ingannata, distrutta dai sicari della droga. Medellin mi porta questo ricordo, mi evoca tante vite giovani stroncate, scartate, distrutte. Vi invito a ricordare, ad accompagnare questo luttuoso corteo, a chiedere perdono per chi ha distrutto le aspirazioni di tanti giovani, chiedere al Signore che converta i loro cuori, che abbia fine questa sconfitta dell'umanità giovane. Infine a Cartagena, la città di San Pietro Claver, apostolo degli schiavi sulla cui tomba domenica 10 settembre Papa Francesco prega, il focus va alla promozione della persona umana e dei suoi diritti fondamentali. Oggi, come ieri, infatti, le innumerevoli forme di schiavi tucci spingono a dare una risposta concreta e controcorrente al grido degli ultimi, mostrando che la via della vera rivoluzione, quella evangelica, non ideologica, libera veramente le persone e le società. Ancora oggi, in Colombia e nel mondo, milioni di persone sono vendute come schiavi, oppure vanno mendicando un po' di umanità, un momento di tenerezza. Prendono la via del mare o si mettono in cammino perché hanno perso tutto, a cominciare dalla loro dignità e dai loro diritti. Ci sono molte situazioni che chiudono senza alcun dubbio il cuore dell'essere umano e quello della Chiesa, la sete smisurata per il denaro, la corruzione, tutto ciò che impoverisce la condizione umana, sminuisce la dignità e ci allontana da Dio. Dio continua a guardare l'umanità con misericordia e compassione, anche in mezzo alle situazioni personali, ma siamo chiamati a partire da Gesù, a continuare a capire che la sua via è un cammino verso un'identità più cristiana, che abbandona ed esclude tutto ciò che ci limita e ci impoverisce e soprattutto che deteriora la nostra coscienza e la nostra condizione di cristiani. Ultimo evento di questa trasferta dall'alto valore simbolico, la messa nell'area portuale di Cartagena, nella quale il pontefice esorta tutti a non fermarsi al primo passo, ma proseguire camminando insieme ogni giorno per andare incontro all'altro. Il suo sguardo si allarga sui mali contemporanei fino a contemplare il dramma della droga, sulla quale si lucra in spregio a leggi morali e civili, la devastazione delle risorse naturali, l'abominio del traffico di esseri umani, la tragedia spesso inascoltata dei migranti. Solo se aiutiamo a sciogliere i nodi della violenza, districheremo la complessa matassa degli scontri. Ci è chiesto di fare il passo dell'incontro con i fratelli, avendo il coraggio di una correzione che non vuole espellere ma integrare. Ci è chiesto di essere, con carità, fermi in ciò che non è negoziabile. In definitiva, l'esigenza è costruire la pace parlando non con la lingua, ma con le mani e le opere. La presenza di Papa Francesco in Colombia è qualcosa di molto significativo, che segna la nostra storia. È venuto a rafforzare la nostra fede, la nostra speranza, ci reca la misericordia di cui abbiamo tanto bisogno per fare questo primo passo di riconciliazione e di perdono.